Sì, sono Mauro Fortini. Quello che sto per dire è tutto vero. Niki Giusino, il disubatore di riso per antonomasia, cosa hai da dire Mauro? Voglio dire tutta la verità. Praticamente io ho venduto casa, i soldi li ho investiti e mi davano una piccola rendita. Ogni tanto io mi prostituisco, ho qualche donna anziana, addirittura gli ho fatto togliere anche la cardia aspirina, grazie a me. Anche, quindi stanno meglio? Stanno molto meglio, è vero. Quindi non sono più depresse? Beh, vivono una vita molto più leggera.